buongiorno a tutti e ben ritrovati nella rubrica caffè e mercati un saluto da samuele malano che vi augura un buon fine settimana in questo venerdì 8 luglio vediamo un po come poter comportarci sui mercati finanziari oggi giornata molto interessante dal punto di vista dei dati economici poco prima delle 14 parlerà la lagarde in europa e poi alle 14 e 30 usciranno i dati sulle buste paghe del settore non agricolo in america quindi passiamo subito al grafico anzi al sito di investire.biz per vedere appunto cosa possiamo aspettarci dalle notizie che usciranno oggi aspettiamo un secondo eccoci qua appunto oggi alle ore 14 e 30 usciranno il dato sulle buste paga del settore non agricolo è atteso un dato intorno ai 268 mila nuovi lavori nuovi posti di lavoro nel caso il dato dovesse essere superiore a questa attesa sicuramente porta un po di speranza di nuovo sui mercati un po di luce e quindi la paura no recessione la un po diciamo la la contrazione dei mercati potrebbe allentarsi per perlomeno fino a fine mese quando poi ci sarà il discorso di powell sul rialzo dei tassi di interessi quanto saranno alzati e quant'altro quindi questo dato è molto importante da capire e passerei anche al da al grafico su kimura per analizzare principalmente il nasdaq l'ustec 100 quindi l'indice tecnologico americano perché vediamo appunto sul dafri sul grafico daily che il i prezzi hanno raggiunto l'area dei 12 mila e 200 punti circa dove appunto nel nella seduta nelle sedute di fine giugno il prezzo aveva si era fermato e poi era tornato a riscendere quindi un dato positivo potrebbe tranquillamente rompere a rialzo questa resistenza e continuare perlomeno fino in area dei 12 mila e 500 punti dove poi troviamo un'altra forte zona resistenziale sempre di fine maggio nel caso il dato dovesse essere negativo quindi la creazione di nuovi posti di lavoro è inferiore alle attese beh potremmo vedere nella giornata di oggi una forte digressione dei prezzi che porterebbe di nuovo in area dei 11 mila e 500 punti sicuramente un movimento tale fatto in un solo giorno nella giornata di venerdì può essere meno probabile però vediamo anche come nel passato forti giornate di volatilità forti movimenti ribassisti o rialzisti che siano possono comunque succedere beh nel caso la notizia dovesse essere negativa andremo potenzialmente a rimangiare tutto quello che è stato fatto di buono nel in questa settimana particolarmente martedì mercoledì e giovedì siamo passati dagli 11.500 punti di lunedì in apertura fino appunto so poco sopra i 12 mila punti quindi vediamo come il dato possa attente come possa uscire se positivo o negativo e costruiamo delle operazioni per questo fine settimana magari potremmo operare con gli nfp o comunque nella seduta americana di oggi più in intraday in scalping e poi costruire delle operazioni di medio termine per il prossimo inizio settimana settimana prossima quindi io passo alla telecamera principale vi ringrazio per avermi ascoltato fatemi sapere cosa ne pensate di quest'analisi nell'articolo che trovate su investire.biz in fondo c'è un link dove potrete comunque organizzare un appuntamento direttamente con me e quindi possiamo confrontarci insieme vi auguro nuovamente un buon fine settimana e vi ringrazio per l'ascolto ciao a tutti